Non dimenticarti di iscriverti a questo canale e di attivare la campanellina per non perderti nessuno dei nostri contenuti a tema One Piece, mi raccomando. Ormai questo canale ha due o tre anni, io già non mi ricordo più, però è da un po', dai, che stiamo navigando questi mai, anche se rimane uno dei canali più giovani di questo tema in Italia, e qualche idea me la sono fatta sulla community. Io leggo spessissimo i commenti, sapete che metà almeno dei contenuti di questo canale partono proprio dai vostri commenti. Io spessissimo leggo le opinioni della community e vedo anche in che direzione va la community quando si parla di alcuni personaggi, anche a livello di forza. Difatti questa è una classifica molto soggettiva in certe parti, perché oggi ho voluto mettere in lista i personaggi più sottovalutati di One Piece. Cosa vuol dire sottovalutati? Questa è una cosa che serve per questo video, ragazzi. Semplicemente intendo personaggi che, a mio parere, sono estremamente forti, molto molto forti, ma che per una ragione o per un'altra la loro forza non viene riconosciuta appieno all'interno del fandom di One Piece, specialmente quello italiano, essendo che, insomma, Mera Mera è il canale italiano nostro dedicato a One Piece, e quindi io parlo principalmente della community italiana. Ci sono personaggi estremamente forti, quindi sicuramente nei commenti troverò gente che dice, ma perché ho inserito questo personaggio? Per me è ovvio che è forte. Ovviamente io tengo a contare la community a grandi linee, eh ragazzi? Quindi so che molti personaggi sono dei preferiti di alcuni personaggi che si trovano in questa lista, ma meritano qualche attenzione in più, a mio parere. Comunque io direi che possiamo partire dalla decima posizione, infatti in decima posizione ho voluto inserire Marco. Perché ho inserito Marco solo in decima posizione? Proprio perché questa è una classifica dei più sottovalutati, c'è da dire che la questione Marco si divide proprio a metà all'interno della community, nel senso che metà delle persone che seguono One Piece considera Marco troppo forte, l'altra metà invece non lo considera proprio. Ecco Marco io non potevo assolutamente non inserirlo in questa classifica, perché secondo me se ne parla veramente poco di lui. Marco di fatto è un primo comandante, ma è molto più forte del classico primo comandante. A parte che a me in generale in realtà dà fastidio raggruppare la forza dei personaggi in questo modo, quindi questo è forte come un primo comandante, questo è forte come un secondo comandante, ecco questa cosa non mi piace molto, ma solo perché tra i primi comandanti ci può essere una differenza enorme. Cioè già tra King e Katakuri c'è una differenza proprio nel metodo di combattimento, ma in generale se noi prendiamo anche Marco qua la differenza si sente alla grande. Difatti perché ho voluto inserire Marco? Perché Marco ha dato prova della sua forza più volte soprattutto recentemente. Difatti proprio da Nigashima vediamo come Marco riesca a tenere tessa tranquillamente sia a King che a Queen. E attenzione, entrambi sono praticamente i membri più forti della ciurma di Kaido, personaggi che devono essere sconfitti successivamente sia da Zoro che da Sanji. Quindi sì, sono due personaggi incredibili. E Marco, per praticamente metà della battaglia di Nigashima, tiene a bada entrambi contemporaneamente. Poi vabbè, il suo frutto, Tori Torino Mi, modello Fenice, uno dei miei frutti preferiti in assoluto. Quindi, oh regà, ogni tanto bisogna parlare di Marco, ci sta. In donna posizione invece ho voluto inserire Kobe. Questa è una cosa che invece ho notato più recentemente nella community di One Piece, che ovviamente adesso vedendo Kobe un pochettino di più, sembra un personaggio quasi inutile. Per colpa sua stiamo per perdere un personaggio un po' più importante, anzi molto più importante. Però ragazzi, non bisogna mai sottovalutare questi personaggi qui. Personaggi che sono destinati a diventare grandi in futuro. Nel senso, già ad Acinoso abbiamo visto come Kobe comunque sia in grado di distruggere cose enormi, sia in grado di utilizzare Lucky anche molto molto bene. E comunque tutto questo è grazie ovviamente agli allenamenti che ha avuto da parte di Garp. Quindi il sottoposto, anzi diciamola bene sta cosa, l'allievo preferito di Garp non può essere debole. Poi per carità, magari non ha avuto un grande screen time, non è il nostro Marine preferito perché ne abbiamo visti altri per più tempo, ok? Ma ragazzi, chiariamo anche una cosa. Luffy sta a Roger come Kobe sta a Garp. Quindi in poche parole, noi dobbiamo abituarci a vedere Kobe sempre di più e dobbiamo anche capire che Kobe, verso la fine di One Piece, sarà fortissimo, ma fortissimissimo. E già adesso comunque ha dato prova, secondo me, della sua forza. Quindi l'ho voluto inserire in questa classifica, però solo in donna posizione, proprio perché a differenza di altri personaggi, diciamo che si è visto un pochettino di meno. In ottava posizione invece ho voluto inserire Eustace Kid. Anche lui, secondo me, è un personaggio molto molto sottovalutatore della community, soprattutto ultimamente da quando è uscito quel famoso episodio nell'anime. In poche parole, nell'anime adesso si è visto la conclusione dello scontro tra Kid, Low e Big Mom. E in molti sono lamentati per questa cosa qui. Cioè, io ho letto commenti della serie, ah, adesso un'imperatrice che si fa sconfiggere a due personaggi del genere. Cioè, ragazzi, noi stiamo parlando comunque di Low e Kid. Cioè, questi due personaggi sono messi allo stesso livello di Luffy. Anzi, per me, in realtà, è una delle cose più belle di One Piece. Vedere che ci sono pirati che, per il governo mondiale, sono allo stesso livello del protagonista. Anche dopo 26 anni di pubblicazione. Quindi, poche parole, Kid e Low sono fortissimi. E per il governo mondiale sono pericolosi tanto quanto Luffy. Basta vedere le taglie che gli vengono date. Poi certo, Luffy, avendo una flotta, diventa imperatore, mentre gli altri due no. E va bene così. Low non l'ho potuto inserire in questa classifica, perché comunque Low è apprezzatissimo da un'altra parte della community. Mentre Kid, purtroppo, non l'abbiamo visto così tanto, come per esempio abbiamo fatto con Low. E quindi, in questa classifica, si ritrova per forza. Però, col suo risveglio, diventa fortissimo. E poi, oh, cioè, ma il suo potere, il suo frutto del diavolo. Ma quanto è figo. È uno dei frutti che, tipo, vorrei avere io. Cioè, mi piace tantissimo, ragazzi. In settima posizione, invece, ho voluto inserire Brook. Il nostro Brook, allora, chi mi segue sull'altro canale, su Mera Mera, sa che Brook è nella mia top 3 personaggi preferiti. Forse addirittura al primo posto. Un sacco di momenti di One Piece sono bellissimi proprio per la sua presenza. E in più, il nostro caro Brook è un personaggio che certe volte ci regala delle perle incredibili e si rende utile in ogni cosa che fa. Se io penso anche solo ed esclusivamente a Whole Cake Island, per il coraggio dimostrato e l'intelligenza anche dimostrata, Brook è uno dei personaggi più importanti in assoluto, uno dei Mugiwara più importanti in assoluto. Però spesso e volentieri viene dimenticato questo Mugiwara. Forse perché è il penultimo ad essere entrato, quindi per gran parte della storia effettivamente Brook non c'è stato. Forse perché, da una parte, è un po' il comic relief della ciurma. In realtà non è il solo ed unico, però comunque magari ci si sottolinea di più il fatto che sia molto divertente piuttosto che la sua forza, la sua scaltrezza. Però invece questo personaggio, ragazzi, ha dimostrato di essere abbastanza coraggioso da affrontare tranquillamente in una 1v1 Big Mom a Whole Cake Island. A casa sua, ovviamente, non c'è stata partita. E qua, ragazzi, mettiamo le cose in chiaro. Brook non può niente contro Big Mom, ma anche solo il coraggio di alzarsi in piedi e fissare l'imperatrice negli occhi e combatterla senza alcun briciolo di paura per me è una cosa pazzesca. E poi come vedete, comunque, proprio a Whole Cake Island, anche Luffy praticamente viene sconfitto in un solo colpo da Big Mom e non può far niente contro l'imperatrice, quindi quello scontro lì Brook lo perde, ma per forza. In sesta posizione, invece, ragazzi, ho voluto inserire Gekko Moria. Sì, perché secondo me Gekko Moria in futuro potrebbe tornare come un personaggio un po' più importante e come tutti i personaggi che tornano in One Piece potrebbe avere un ruolo un po' più importante e potrebbe avere dei nuovi poteri o comunque potrebbe essersi potenziato durante il time skip. In molti credono che Moria sia semplicemente scarso, ma lo credono per quello che è successo a Marineford. Infatti Moria letteralmente viene one-shotato da Jinbe a Marineford e in più lo stesso Lo Flamingo dice che Moria è troppo debole per far parte della flotta dei set. Diciamo che comunque Moria ha un grandissimo difetto. La pigrizia è il fatto che comunque lui abbia abbandonato il suo sogno per colpa di Kaido. Sappiamo comunque in One Piece quanto sono importanti i sogni e addirittura che il seguire o meno i tuoi sogni ti modifica anche un po' il corpo e la potenza. Vedi anche per esempio Laki, vedi quello che è successo a Kobe per dire, no? Quindi diciamo che Moria è indebolito anche da questa cosa qui, da questo fattore qua. Secondo me Moria con le ultime cose che abbiamo scoperto per quanto riguarda Acinosu e per quanto riguarda gli ultimi capitoli insomma, secondo me Moria potrebbe tornare tranquillamente in gioco. Ormai sappiamo che non entrerà nella ciurma di Barba Nera perché ha rifiutato categoricamente. Però un'altra ciurma in cui secondo me è destinato a comparire potrebbe essere benissimo la Cross Guild. Guarda caso quella flotta lì, questa alleanza qua è proprio formata da ex flottari e allo stesso tempo lui è un ex flottaro e in più potrebbe esserci anche qualche motivo per cui la Cross Guild sia interessata a visitare Acinosu, luogo in cui teoricamente ora si trova anche lui. Chi lo sa ragazzi, chi lo sa. Ecco, visto che secondo me deve tornare per forza di cose sarà molto molto forte e in più ragazzi il suo potere di rubare le ombre e che letteralmente rende incredibilmente vulnerabili i personaggi esposti al sole a cui l'ombra è stata rubata è un potere quasi invincibile ma poi in generale il suo frutto è molto particolare perché ha 3000 abilità collegate a sto frutto quindi magari anche un ipotetico risveglio secondo me sarebbe qualcosa di assurdo. In quinta posizione invece ragazzi ho voluto inserire Smoker. Per lui diciamo che il discorso è abbastanza simile a quello di Kobi. Cioè siamo abituati a vedere Garp come il marine più forte abbiamo visto gli ammiragli e quindi Smoker rimane un pochettino nel dimenticatoio in più a Pankhazard abbiamo visto come ormai i Logia siano veramente quasi scarsi contro gli utilizzatori di Aki. Ecco, però allo stesso tempo per esempio negli ultimi capitoli abbiamo visto come un utilizzatore di Logia come un ex ammiraglio appunto Kusan riesca a utilizzare sia il potere del frutto Logia che l'Aki contemporaneamente per essere veramente un avversario temibile. Ecco, secondo me Smoker dopo la grandissima batosta Pankhazard può fare anche delle robe del genere. In più Smoker a mio personalissimo parere è anche destinato a diventare un ammiraglio in futuro. Attenzione però queste sono solo teorie però diciamo che la supposizione mi fa capire anche molte cose sulla direzione che prenderà Smoker tra molto tempo da parte di Oda. Diciamo che tutti gli ammiragli nel mondo di One Piece hanno un epiteto e l'epiteto diviso in due. Il primo è un animale che appare nello zodieco cinese e il secondo è un colore. Ecco, Smoker ha una mossa molto particolare che è quella che si chiama White Snake quindi il serpente bianco. Il serpente è un animale che si trova nello zodieco cinese e il bianco è un colore ed è un colore caratteristico perfetto per Smoker. Quindi sì, secondo me Smoker verso la fine dell'opera potrebbe essere un ammiraglio magari il nuovo ammiraglio del nuovo ordine mondiale che si formerà magari con la distruzione del governo mondiale che conosciamo ora. Comunque Smoker ha comunque un frutto Roja certo, adesso con Lucky le cose sono cambiate un po' però mischiando i Roja con Lucky come vi ho detto, secondo me si possono ottenere dei personaggi comunque molto molto forti. Al quarto posto invece ragazzi ho voluto inserire Boa e Hancock. Ultimamente la community si sta ricredendo un pochettino su di lei. Tutto questo ovviamente grazie a quello che ha fatto Barba Nera. Difatti Barba Nera a un certo punto invade Amazon Lily solo ed esclusivamente per il frutto di Boa e da quello che vediamo Teach è anche disposto a perdere due dei suoi membri più fedeli come per esempio Vasco Shot e Caterina Devon pur di avere comunque il mero omeronomio ovvero il frutto di Boa Hancock. Questo frutto permette all'utilizzatrice in questo caso di trasformare in pietra chiunque si innamori di lei ma da quello che vediamo da S-Snake come ci viene tra l'altro confermato nell'SBS non serve per forza un innamoramento. Basta semplicemente che la persona in questione ti trovi carina o semplicemente bella che si affezioni un pochettino a te per pietrificarti. Pietrificarti e quindi ragazzi stiamo parlando di un frutto che si avvicina quasi ai parametri di sugar poi per carità Lucky magari può annullare questo frutto diciamo che non lo sappiamo perché vabbè non sappiamo neanche se ti ci abbia o meno Lucky del reconquistatore secondo me sì però non lo utilizza per togliere la pietrificazione anche i suoi membi da ciurma quando salta a Mazzolili quindi sembra veramente un frutto molto molto insidioso e in più lo stesso Barba Nera considera quel frutto un tesoro e lui stesso si alza per andare a prenderlo cioè assurdo ricordatevi che comunque la ciurma di Titch è andata anche a catturare una personcina ovvero Pudding che molto probabilmente può leggere i Ponegriff quindi un personaggio essenziale e lui non si è neanche degnato di andare a Hulk e Kyle andava andato gli altri si è presentato solo per il frutto di Boa questo vi fa capire quanto sia forte questo cavolo di frutto in terza posizione invece ragazzi ho voluto inserire Cavendish sì membro della flotta di Mugiwara l'unico membro della flotta presente in questa lista che secondo me in futuro ci darà ancora dimostrazione della sua potenza sembra infatti essere uno spadaccino veramente veramente formidabile soprattutto per la sua strana forma che non deriva da frutti del diavolo non deriva da niente ma sembra più essere una specie di malattia diciamo una specie di disonambulismo o disturbo dissociativo dell'identità adesso ne parleremo comunque secondo me appunto Cavendish è uno di quei personaggi che deve tornare quindi anche qui la sua potenza aumenterà col suo ritorno a parliamo di questa nuova forma questa forma si chiama in italiano cavallo bianco e in realtà la sovera il suo eronome in giapponese è Akuba e questa forma si risveglia quando Cavendish si addormenta gli garantisce una velocità incredibile ed anche una maggiore forza e agilità da quello che viene detto letteralmente il cavallo bianco è addirittura due volte più forte di Cavendish che comunque è considerato da tutti uno spadaccino molto molto abile grazie a questa abilità tra virgolette Cavendish riesce a sconfiggere semplicemente un personaggio del calibro di Dellinger che comunque è un mezzo uomo pesce ed è un ufficiale dei pirati di Don Quixote l'unica grande pecca del cavallo bianco è che tende ad attaccare anche gli alleati e gli amici da quello che vediamo però Cavendish ha dimostrato di essere comunque in grado di tenere il cavallo bianco solo per un certo tempo ok sufficiente per sfruttare la sua velocità e poi ovviamente si lascia cadere al suolo dormendo quindi ha degli alti e bassi questo personaggio a livello di forza ma a me piace tantissimo e è da chiarire anche questa cosa se deriva da un furto del diavolo se è una malattia chi lo sa poi tra l'altro qua una piccola chicca che io vi lascio avete notato i due generali della flotta dei Mugiwara uno ai capelli verdi e l'altro ai capelli biondi un po' come i due membri principali della ciurma dei Mugiwara e poi quello che ha i capelli biondi però è uno spadaccino mentre invece quello con i capelli verdi utilizza tantissimo la difesa diciamo che la difesa quindi le sue barriere sono la sua abilità principale che è praticamente l'inverso di Zoro e Sanji Zoro infatti capelli verdi ma è uno spadaccino mentre Sanji invece biondo e ormai la sua caratteristica principale è proprio la difesa grazie al nuovo esoscheletro che ha vabbè è una particolarità che a me piace molto 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 in seconda posizione invece ragazzi ho voluto inserire Crocodile purtroppo questo personaggio è incredibilmente sottovalutato perché l'abbiamo incontrato veramente presto nel mondo di One Piece ed è stato sconfitto da un Luffy che comunque era quasi alle prime armi diciamocelo però possiamo dirci tutti tranquillamente quella è proprio la plot armor più plot armor che abbiamo mai visto in One Piece perché Oda ha dovuto trovare anche un escamotage per sconfiggere questo personaggio ovvero la sua lebolezza all'acqua bene c'è da dire che comunque adesso Crocodile è tornato è tornato e nella Cross Guild lui comanda e attenzione lui ha una taglia che tocca i 2 miliardi 2 miliardi di taglia raga sono tantissimi contando che per il governo mondiale lui non è neanche il capitano della Cross Guild ma è un ufficiale capite quindi sono tantissimi calcolate che è una taglia più alta sia di quella di Katakuri che quella di King stesso poi c'è da dire che se voi leggete bene il manga si vede come Crocodile stesso sottolinea che la sua idea iniziale era quella di comandare la Cross Guild insieme a Mioc quindi doveva essere semplicemente una collaborazione però allo stesso livello ecco capite quello che sto cercando di dire Mioc sembra non essere infastidito da Crocodile Crocodile se ha un piano e vuole usare la Cross Guild per raggiungere questo piano è una cosa che non dà fastidio a Mioc anzi è una collaborazione stretta da loro quindi uno come Mioc che ha una taglia da quasi 4 miliardi sembra quasi considerare Crocodile come un suo pari quindi sì secondo me Crocodile in questi due anni è diventato ancora più forte poi ragazzi diciamocelo chiaramente ma se Crocodile ha imparato a utilizzare l'Aki quindi l'Aki combinato ha il suo frutto rogia della sabbia ma che frutto è cioè sarà una roba potentissima sapete comunque Crocodile è uno dei migliori utilizzatori di frutti rogia secondo me mai visti già creava le lame con la sabbia magari queste lame però addirittura infuse di Aki ma sarebbe qualcosa di estremamente pericoloso poi ragazzi se Crocodile tornerà in futuro proprio come membro principale della Cross Guild ma noi dobbiamo proprio scordarci il fatto che sarà forte come quando l'abbiamo visto dalla basta no perché a livello di di proprio a livelli che ormai conosciamo sarebbe più debole dell'ultimo Mugiwara quindi raga deve per forza essere più forte di quando l'abbiamo visto l'ultima volta e quindi per questo l'ho voluto inserire in seconda posizione e in prima posizione qua sono io che prendo una posizione netta ho voluto inserire Sanji sì perché la community purtroppo si divide spesso e volentieri per chi è meglio tra Zoro e Sanji chi è più forte questo non è importante su chi è più forte o no una cosa che io cerco di chiarire sempre anche sull'altro canale è questa questi due personaggi sono da prendere insieme nel senso che senza Sanji non si può parlare di Zoro e senza Zoro non si può non parlare di Sanji quindi ragazzi questi due personaggi sono da paragonare allo stesso modo Zoro però è considerato molto più forte di Sanji spesso e volentieri dalla community che però adesso c'è da dire una roba con il nuovo risveglio dell'esoscheletro ma che vuoi dire a Sanji è un personaggio fortissimo forse il personaggio con la difesa più alta di tutto One Piece addirittura secondo molti anche secondo me tra l'altro ma tra l'altro vabbè basta vedere anche lo scontro contro Queen che è uno scontro molto figo secondo me Sanji ha meritato la vittoria secondo me ha bisogno di un po' più di spazio io vi dico la verità quando penso che la taglia di Sanji è più bassa di quella di Jinbe a me viene male al cuore perché appunto per me Zoro e Sanji devono essere sempre lì poi ci sta che Zoro abbia una taglia un po' più alta perché Zoro è lo sparaccino Sanji è il cuoco quindi anche solo per queste cose qui ci può stare però le taglie devono essere simili per me difatti secondo me adesso che Oda ha notato un pari di cose che sono successe quest'anno continuerà ad avvicinare ancora di più questi personaggi per farvi capire l'episodio in cui Sanji e Zoro fanno il loro attacco combinato contro King e Queen per salvare Marco è un episodio che è andato virale ovunque addirittura in tendenze su Twitter mondiale quindi per farvi capire in quell'episodio lì non è che non succedeva niente cioè c'era solo quell'attacco lì che poi preannuncia l'inizio di due combattimenti diversi quindi nulla di che immaginatevi quindi magari che ne so a uno scontro di Sanji e Zoro insieme contro qualcun altro comunque in generale Sanji merita di essere più apprezzato secondo me io poi anzi guarda visto che ho preso questa posizione così netta vi dico io preferisco Zoro sinceramente ma perché sono più legato al personaggio perché io quando mi sono innamorato di One Piece parliamo proprio dei primissimi episodi dell'anime in cui Sanji ancora stava per entrare quindi io mi sento più legato a Zoro ma Sanji per me è un personaggio super sottovalutato anzi il più sottovalutato di tutti mentre ragazzi come sempre vi ringrazio tantissimo per aver visto uno dei video di Mera Mera grazie mille ci vediamo domani probabilmente con un altro video a tema One Piece e poi vi ricordo anche che settimana prossima esce il capitolo quindi la nostra programmazione come sapete quando esce il capitolo cambia durante la settimana mi raccomando fate i bravi e noi ci vediamo prestissimo sempre con altri contenuti a tema One Piece ciao a tutti grazie a tutti